La Crimea vuole l'adesione alla Russia e il Parlamento della penisola ucraina votato all'unanimità all'ingresso della Repubblica Autonoma nella Federazione Russa. L'Assemblea ha anche convocato per il 16 marzo un referendum in cui i cittadini della Crimea dovranno scegliere fra tornare alla Costituzione del 1992 che concedeva alla regione maggiore autonomia da Kiev o confermare il voto odierno del Parlamento. In Ucraina i referendum locali sono di fatto proibiti per legge. Il leader del Kremlino, Vladimir Putin, è stato immediatamente informato del risultato della risoluzione dell'Assemblea della Crimea.